Napoli, doppio colpo per gennaio, De Laurentiis ci pensa. L'inizio di stagione altalenante e deludente dei campioni d'Italia in carica potrebbe far correre ripare la prossima sessione d'acquisti. E allora il Napoli pensa a un doppio colpo, soprattutto a centrocampo, quando Anghissa mancherà per la Coppa d'Africa. Il solo Cajuste non basta. E allora, occhi su Tuzar, giocatore dell'Union Berlino. Circa 7 milioni di euro il suo valore. Potrebbe essere lui il prossimo colpo del Napoli. L'alternativa dal modo Glimt. Grundeck, giovane di prospetto futuro, che potrebbe diventare un utile gregario per la squadra di Rudi Garcia, che deve salvare il suo posto, specie in quella fase calda della stagione dove incrocerà anche Inter e Juventus e dove non si potrà più sbagliare. Secondo voi sono i nomi giusti per dare una svolta alla squadra di Rudi Garcia? Amici di calciomercato.it, ditecelo nei commenti.